e dello Spirito Santo. Amén. Il Signore sia con voi e con noi, con il suo Spirito. Oggi possiamo constatare le radici cristiane della città. Qui le tocchiamo con il mano. La fede che va indietro di secoli e secoli. La fede che unisce anche la città, che è più grande, dei credenti. Però è bello che quest'oggi anche le espressioni, le autorità della città siano presenti. Il voto, in effetti, è stato un atto di tutta la città e non soltanto della comunità credente. Io vorrei che durante questa Messa ci sentissimo anche uniti al Papa, che oggi pomeriggio fa il suo ingresso. È come un parroco fa l'ingresso nella parrocchia, lui fa l'ingresso nella cattedrale della città di Roma, che è San Giovanni, in laterale. Per vivere con intensità un momento più grande, cominciamo.